La rubrica L'Evidenziatore oggi sottopone alla vostra attenzione la situazione in cui versa la sede Tarantina del Politecnico di Bari. Gli studenti sono in mobilitazione, per domani è prevista una nuova iniziativa, ma lasciamo spiegare e illustrare a loro qual è la situazione e il rischio chiusura addirittura. Io saluto gli amici studenti del Politecnico di Taranto, Alessandro Fino, Fiorenzo Santoro e Pierluigi Loscialpo. E proprio da Pierluigi Loscialpo cominciamo per capire cosa sta accadendo. Buonasera a tutti. Ciò che sta accadendo ha radici già con quanto fatto in primis dal Ministro Gelmini e adesso con nuovi tagli fatti dal Ministro Profumo. In realtà questi tagli sull'istruzione derivano dal fatto che vi sono ore in eccesso di alcuni docenti e quindi decreti formativi da tagliare per tutte le università italiane. Diciamo che se non vengono fatti questi tagli non viene fatto l'accreditamento. L'accreditamento vuol dire che le lauree diventano nulle. Allora bisogna in realtà per adeguarsi a questo decreto fare dei tagli e le sedi centrali... Tra questi tagli c'è Taranto. Le sedi centrali, cioè noi Taranto è una sede amministrativa che dipende da Bari, Politecnico di Bari, sede centrale, stanno vedendo dove attuare questi tagli e quindi in questo momento stanno attuando dei tagli alle sedi decentrate. Le sedi decentrate che già scarseggiano negli indirizzi, quindi facendo questi ulteriori tagli verrebbero portati a chiusura in quanto i tagli che si vogliono fare sono sulle magistrali. Ciò comporta per un ragazzo tagliare sulle magistrali, cioè non mettere più le magistrali a Taranto comporterebbe solamente delle lauree triennali le tre e quindi un ragazzo è costretto può andare a fare altrove la magistrale. Che tipo di offerta formativa universitaria della vostra facoltà c'è a Taranto attualmente? Quanti indirizzi? Noi abbiamo tre indirizzi, ambiente e territorio, meccanica e elettronica. Sono tre indirizzi fondamentali per questa città, tutti e tre. Perché? Perché appunto, lei sa bene, il decreto salva ILVA, quindi l'ILVA, l'ambiente Tarantino e quindi l'ambiente territorio. L'ingegnerità è nata sotto ambiente e territorio, dal 1993. Sono più di vent'anni che va avanti con quell'indirizzo. Meccanica perché abbiamo appunto sia l'ILVA sia la legna, abbiamo grandi colossi a livello nazionale e internazionale e quindi serve. E l'elettronica che si lega anche a quel ramo, diciamo, è sempre stata creata appunto per tutelare le aziende che vi sono sul territorio. Quindi andare a rovinare questi tre indirizzi sul territorio vuol dire portare ancora una volta la città al degrado. Perché? Perché la rinascita culturale, la rinascita economica, la rinascita strutturale della città deve rinascere dalle università. Queste due cose devono andare a braccetto tra di loro. E siamo assolutamente d'accordo su questo. Anzi, io aggiungo per rincarare la dose che proprio in questi giorni di dibattito elettorale l'importanza della presenza di indirizzi universitari che siano attinenti e funzionali a quelle che sono le particolarità del territorio stesso devono essere assolutamente salvaguardate e addirittura potenziate. Per cui che si parli addirittura di rischio di chiusura... Il rischio di chiusura in realtà, posso bloccarla, il rischio di chiusura nasce dal fatto appunto che non dando al ragazzo un'offerta formativa completa un ragazzo che sa che poi deve andarsi a trasferire altrove inizia già la sua offerta formativa altrove e quindi bloccando le iscrizioni si va alla chiusura. Cioè è una cosa che non avviene già da quest'anno ma deve avvenire poi per forza. E allora, andiamo da Fiorenzo Santoro. Voi vi siete organizzati, già vi abbiamo visti, protagonisti di alcune situazioni dove giustamente avete iniziato ad alzare la voce nel senso a far sentire le vostre ragioni. Per domani in modo particolare a partire dalle 9.30 avete organizzato un'ulteriore manifestazione. Cosa accadrà domani? Sì, innanzitutto ringrazio Studio Centro per la visibilità che ci state offrendo. Niente, Romani presso la facoltà, presso l'Aulamagna avrà appunto luogo questa assemblea, questo dibattito dove in pochi giorni siamo riusciti a contattare le istituzioni locali quali il sindaco, il presidente della provincia Florida, il sindaco di Taranto Stefano, il consigliere regionale del settore istruzione e lavoro, l'avvocato professor Laddomada e vari altri professori che interverranno che appunto cercheremo di portare alla luce di molti della stampa le nostre ragioni che sono appunto quelle di non far chiudere la facoltà. Anzi, io direi che questa non deve essere la battaglia della non chiusura della facoltà, ma la battaglia per cercare di avere un polo universitario tarantino e non che abbia sempre questa dipendenza da Bari, perché Taranto a mio avviso è una città... L'autonomia universitaria tarantina? Sì, l'autonomia universitaria che a mio avviso Taranto... L'autonomia, l'identità tarantina, che è ancora meglio forse. Sì, l'identità, perché secondo me Taranto è una città grande, una città che ha bisogno di università, qualcuno, qualche politico sostiene che dalla cultura non si mangia, mentre invece se andiamo a prendere dati... Molto mio per chiunque sia stato a fare questa dichiarazione... Mentre invece se andiamo a prendere dati che provengono dall'Europa e dal mondo, andiamo a vedere che comunque andando ad investire in ricerca e sviluppo e in università, diciamo che c'è una ricchezza non solo personale, ma i dati riportano che comunque ci sono degli sviluppi anche a livello imprenditoriale. Le porto un esempio molto semplice, poniamo il caso che lo Stato, ad esempio, che è l'ente che gestisce la scuola, l'università, l'istruzione e la ricerca, dovesse investire in 20 universitari che lavorano, ad esempio, in 4 progetti differenti, 4-5 progetti differenti e qualora uno di questi 4-5 progetti dovesse portare frutti, quali ad esempio un brevetto, una nuova medicina, parliamo dell'ambito medico, o comunque una nuova invenzione, qualora si va a brevettare, questi non sono altro che quattrini e quindi investimenti che portano ricchezza e occupazione, ovviamente. Andiamo da Alessandro Fino, ecco, voi come state vivendo dal punto di vista degli studenti, questi giorni che sono giorni anche un po' concitati, ecco, dal punto di vista del percorso universitario, la quotidianità, ecco, come la vivete? Sì, allora, innanzitutto questa notizia è capitata giusto nel bel mezzo del periodo degli esami, il che non aiuta certamente alla concentrazione degli stessi. Dall'altro canto, almeno per quanto lo sto vivendo personalmente, non mi do per sconfitto finché non ci sarà una sconfitta definitiva. Quanti siete attualmente gli iscritti a Ingegneria Taranto? Tutti e tre gli indirizzi, sì. Un migliaio, un migliaio circa. Un numero significativo. Abbastanza, sì. Dovremmo essere un 200 nella specialistica dei tre ambiti, un 200, credo. Sì, perché poi, diciamo, molti nostri coetanei, come sappiamo, sono più quelli che vanno fuori a studiare, anche indirizzi che sono presenti sul seditorio, solo perché, come sappiamo, è inutile negarcelo che le università del nord o comunque fuoricide sono più prestigiose. Quindi la nostra battaglia, che non deve essere solamente una battaglia degli studenti, ma una battaglia, secondo me, di tutti, perché se riusciamo a creare a Taranto un'università valida, un'università prestigiosa, questo comporta anche la possibilità che non dobbiamo essere noi ad andare a studiare in altre università che si trovano al di fuori, ma dobbiamo essere noi, cittadini di Taranto, a studiare a Taranto e ad avere un'università prestigiosa tale che gli studenti, o comunque i ragazzi che si trovano al di fuori di Taranto, vengano a studiare a Taranto e questo anche sia un simbolo di rilancio per la città, perché come sappiamo, nella situazione in cui versa. Prima la nostra regia, il nostro proprio Candeli, stava mandando in onda le immagini del servizio che ha realizzato Fabrizio Cafaro, che è venuto a incontrarvi proprio in sede. In quella prima occasione voi giustamente avete anticipato un po' quello che è il vostro malumore, il vostro malessere, ma vi sentite studenti precari vista la situazione? Diciamo di sì, per sé. No, no, rispondete tutte e tre, perché chiaramente ognuno ha le proprie reazioni ed emozioni che sono assolutamente soggettive. Cominciamo da Fiorenzo. Sì, diciamo di sì, perché comunque se la prima mossa è quella di andare a tagliare la magistrale, almeno nel caso di ingegneria, come la vedo io, la triennale è solamente la base, perché un ingegnere serio è quello che fa la triennale, la specialistica e poi la specialistica, cioè la quinquennale, perché adesso è stata praticamente divisa. Diciamo la triennale non ha la verità di un vero ingegnere o ingegnere, è a cinque anni, quindi fare tre anni poi bisogna andare fuori. Quindi questo, diciamo, compromette anche il desiderio di un ragazzo che in futuro voglia iscriversi a Taranto. Già parte, diciamo, svantaggiato perché già pensa, dice no, io poi devo andare fuori, quindi tanto vale che vado fuori o non mi iscrivo proprio. Diciamo, noi questa battaglia appunto contro questi tagli, contro la possibilità di affermare a Taranto, il diritto allo studio, questo è il diritto allo studio che deve essere garantito. L'augurio è che questa, diciamo, battaglia che voi giustamente state portando avanti possa esaurirsi in tempi utili, in senso positivo, prima che cominci il prossimo anno accademico, se no si rischia il risultato che ci ha anticipato Fiorenzo. Pierluigi, per quanto ti riguarda invece, come... Io penso che ancora più grave di adesso sarà quando invece mettendo in pratica ciò che si sta facendo si porterebbe l'università a chiusura, ciò vuol dire che il diritto allo studio viene appunto prevaricato, perché? Perché chi ha i soldi andrà a studiare al nord e qui c'è fuga di cervelli, chi invece non se lo potrà permettere si dovrà bloccare alle scuole superiori, questo vuol dire che i ragazzi diplomati oggi come oggi non troveranno più sbocchi lavorativi. Anche perché un dato che abbiamo commentato anche nei giorni scorsi è quello relativo proprio alla diminuzione delle iscrizioni universitarie. Il rischio vero, se questo è davvero la tendenza, il trend e possiamo anche risalire alle motivazioni per le quali le iscrizioni sono in calo, evidentemente la crisi, le famiglie non hanno più la possibilità evidentemente di far proseguire con il momento formativo universitario negli studi ai propri figli. Il rischio vero è che poi il diritto allo studio diventi un diritto elitario, un diritto per pochi e questo sarebbe davvero molto, molto grave. Alessandro, tu ci avevi anticipato prima quello che stai vivendo, giustamente dicevi che questo è il periodo degli appelli, degli esami e adesso ci ritroviamo ad affrontare invece con una situazione psicologica complessa perché non si sa se studiare oppure andare a difendere i propri diritti. No, in realtà ti posso dire Nicola che è possibile fare entrambe le cose e proprio oggi mi sono visto con loro e con gli altri nostri amici in facoltà per poter preparare per bene l'incontro che ci sarà domani e qui di nuovo l'invito a tutta la comunità di volere, cioè di partecipare. Sì, io sono di esame tra tutti i giorni. Stamente perché non è solo, hai fatto bene a puntualizzare così, a invitare, ad allargare l'invito alla cittadinanza perché non è solo un problema vostro di studenti ma di un'intera società, no? Sì, assolutamente, soprattutto indirizzo come ingegneria, almeno l'indirizzo qui sono studenti, ingegneria per l'ambiente e territorio, cioè è importante che ci sia a Taranto perché anche volendo programmare degli sviluppi futuri, anche mi ricollego all'esame che sto preparando, geologia. Quale? Geologia. Geologia. Il fatto di dover costruire su un terreno piuttosto che un altro. È importante, come sta facendo il mio professore, di farci studiare per bene la conformazione del territorio ed è importante avere queste figure che conoscono bene il territorio già presenti qui su Taranto, piuttosto che andatele un domani, andatele a cercare su Torino, Venezia o altri centri. E allora, cari ragazzi, io devo... Prego Pierluigi. Vorrei rinnovare un invito appunto alla comunità civile, alle forze politiche, ai sindacati, agli imprenditori locali, al Presidente di Confindustria, ai politici e a chiunque abbia a cuore il destino di questa città e al destino della nostra università. Quindi domani mattina alle nove e mezza sono tutti invitati presso il nostro Politecnico. Chiaramente noi seguiremo questo vostro sforzo, è uno sforzo importante quello che fate, ma mi piacerebbe ritornare sull'argomento sia per illustrare ai nostri telespettatori il prosieguo di questa vicenda che vi vede vostro malgrado protagonisti, ma mi piacerebbe coinvolgere anche docenti, magari anche il Preside di Facoltà, proprio per avere anche un quadro più completo della situazione, anche dalla postazione, dall'ottica proprio dei docenti e di chi è la responsabilità appunto amministrativa della Facoltà Ionica di Ingegneria. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi oggi. Io vi auguro davvero un in bocca al lupo convinto perché siete ragazzi che vogliono crescere nella loro città, nel loro territorio e questo vi fa crescere chiaramente tra virgolette da un punto di vista universitario, era evidente. Io ve lo auguro di cuore di raggiungere questo obiettivo e allora ci vediamo la prossima settimana. Intanto buona assemblea per domani, io ringrazio Alessandro Fino, Pierluigi Loscialpo e poi Fiorenzo Santoro. Buon lavoro ragazzi. Grazie. E io con gli universitari, gli studenti di Ingegneria vi saluto, vi do appuntamento a domani, domani andiamo a chiudere questa settimana, una settimana molto intensa, e andremo anche a chiudere la campagna elettorale che abbiamo ospitato sin dall'inizio anche all'interno di Live, il contenitore pomeridiano di Studio 100. Ringrazio anche i colleghi tecnici Mauro Ruggeri e Beppe Candelli che hanno curato la parte tecnica di oggi. Buon proseguimento con i nostri programmi e vi aspetto domani alle 15.45. Ringrazio anche i nostri programmi e vi aspetto domani alle 15.45.